Forse ci siamo, una cinquantina di operai al lavoro e si stringono fortemente i tempi. Piazza Sant'Ambrogio a Milano sta per tornare alla normalità. I lavori per il parcheggio sotterraneo stanno per essere ultimati e il 30 aprile ci sarà l'inaugurazione ufficiale. Prima dell'estate i box sotterranei verranno consegnati ai proprietari e entrerà in funzione anche il parcheggio a ore. A marzo verranno smontate le gru che sono state indispensabili per i lavori. Sarà un'area pedonale e solo i residenti potranno accedere in auto lungo la via che costeggia le abitazioni. Verranno collocate panchine di legno lungo due filare di tigli collocati lungo il lato della basilica. La pavimentazione, dopo alcune perplessità, sarà costituita da un mosaico di masselli originali. L'idea del parcheggio e della riqualificazione inizia nel 2000 con l'allora sindaco Albertini, poi nel 2005 si parte con i primi scavi tra mille polemiche, ricorsi, interventi di Palazzo Marino e della sovrintendenza. Tante le preoccupazioni per la stabilità delle mura della basilica. Insomma sono stati circa dieci anni di decisioni, parziali ripensamenti, accuse e controaccuse. Alla fine sono stati realizzati 320 box che sono stati venduti quasi tutti. costo medio 54 mila euro, 230 saranno i posti auto a rotazione, 20 milioni di euro l'investimento complessivo. Numerosi negozi che sono stati costretti a chiudere i battenti durante gli anni passati a causa dell'invasività del cantiere che ha fortemente limitato la circolazione. I pochi esercenti che sono riusciti a proseguire l'attività riceveranno dal comune un indennizzo di 2000 euro, forse pochi ma certamente meglio che niente.